Salve amici dell'Advenzitalia, in questo video andremo a vedere la prova di produzione scritta dell'esame CERT.it livello B2, un esame di italiano dell'Università Roma 3. Questa parte è divisa in tre sessioni, tre esercizi, quindi abbiamo il primo esercizio da completare con una sola parola, poi abbiamo altre due parti che richiedono la composizione di paragrafi e di testi. Quindi bisogna però fare attenzione quando leggiamo il testo e lo compiliamo, perché l'altro esercizio richiede di fare una sorta di riassunto della prima parte, quindi della prova numero 9. Leggiamo subito la prova. Il consiglio che vi do qui è di leggere prima tutta la frase, prima di completarla, perché questo vi consente di avere un'idea migliore del contesto, se si riferisce a me, a lui, a noi, perché potete, sbagliando il contesto, sbagliare anche la parola. Ritorno a scuola, i consigli dell'architetto per organizzare l'angolo studio, come allestire una postazione dedicata ai compiti comoda, funzionale e salutare, dalla scrivania all'illuminazione, l'illuminazione, l'apostrofo, quindi all'illuminazione, dai colori alle sedie per la corretta postura. Ecco alcune dritte per fare le giuste scelte e sbagliare. Non sbagliare. Se fate le giuste scelte, non sbagliate. State facendo le cose giuste. Se fate le scelte sbagliate, allora state sbagliando. La luce naturale è senza dubbio la più adeguata per studiare. Più adeguata. La posizione migliore per la scrivania è quindi vicino a una finestra. L'inizio del nuovo scolastico rende necessaria l'organizzazione della camera dei ragazzi. L'inizio del nuovo anno scolastico. Anno scolastico per i bambini che vanno a scuola, anno accademico per gli studenti dell'università. Quali sono le altezze ideali di piano e sedie? E' l'illuminazione ideale per studiare qual è l'illuminazione? Qual con una L? Quali sono, al plurale, le altezze? E qual è l'illuminazione? A queste e altre domande risponde nel blog per Casa e Design l'architetto Rita Campana che ci spiega come allestire una postazione studio comoda, funzionale e salutare nel suo blog. Il blog dell'architetto, quindi nel suo blog. Vediamo anche le risposte. Non più hanno qual è suo, sono corrette. Adesso andiamo a vedere l'esercizio successivo. Utilizza le informazioni dell'articolo che hai appena letto. Illustra con parole tue cinque aspetti da tenere in considerazione per organizzare un angolo studio o all'interno di una stanza. Scrivi il testo utilizzando tra 60 e 80 parole nel foglio delle risposte. Siccome ci chiede una sorta di riassunto con addirittura cinque aspetti, è difficile farlo all'interno di 60 e 80 parole. Io sono andato oltre ovviamente, ma l'importante è non andare sotto le 60 parole, perché in alcuni casi, come abbiamo visto anche con altri esempi dell'esame CILS, le prove non vengono corrette se hanno meno del limite indicato. Ma se hanno di più non è un problema, l'importante è scriverle correttamente. Andiamo a leggere quello che ho scritto. Quindi, ci sono alcuni aspetti interessanti da considerare quando si vuole organizzare un angolo studio. Introduzione. Corpo e conclusione. Innanzitutto, bisogna posizionare la scrivania vicino alla finestra per avere abbastanza luce. L'illuminazione non deve danneggiare gli occhi. Sotto questo aspetto è importante prestare attenzione anche ai colori che si scelgono in una stanza. Quindi luce e colori. Deve dominare il bianco. La postura è inoltre importante. Terzo aspetto. Per questo bisogna prestare attenzione all'altezza della sedia. La sedia deve permetterti di stare seduto a 90 gradi e appoggiare bene la schiena. Il silenzio. Quarto aspetto. È un altro elemento fondamentale per lo studio. La stanza deve permetterti di studiare in silenzio. Quinto aspetto. Infine, bisogna anche scegliere di studiare durante la giornata quando il cervello rende meglio. e non durante la sera quando si è stanchi. Ho introdotto cinque aspetti, ma come abbiamo visto durante la lettura del testo precedente, loro ci danno solo due o tre aspetti. Quindi alcuni li ho introdotti di mio. Studiare non basta. Bisogna anche mettersi nelle condizioni di rendere al massimo. Questa è una sorta di conclusione che racchiude tutti gli esempi che abbiamo fatto. Vediamo adesso la prova successiva. L'ultima, terza ed ultima parte dell'esame. Ecco, 11. Scrivi un testo tra 100 e 150 parole, scegliendo una delle seguenti tracce. Quindi dobbiamo scegliere uno oppure due e scrivere tra 100 e 150 parole. Due mesi fa hai ordinato su un sito internet molto conosciuto un libro che sarebbe dovuto arrivare in due settimane e non ti è mai arrivato. Scrivi una mail all'assistenza clienti del sito per lamentarti dell'accaduto e chiedere un invio immediato del libro, un rimborso delle spese che ti sono state addebitate. Quindi nella mail dobbiamo, numero uno, lamentarci. Numero due, chiedere di spedirci subito ciò che abbiamo ordinato oppure di darci indietro i soldi. Dobbiamo fare attenzione ad includere nella nostra mail tutte le cose che loro ci chiedono, altrimenti perdiamo punti. Numero due, sei uno studente straniero che ha deciso di continuare il suo percorso di studi in un'università italiana. Scrivi una mail al responsabile del tuo corso di laurea per descrivere la tua situazione, quindi il numero degli esami svolti, quelli da svolgere in Italia e per chiedere un appuntamento di persona. Quindi anche qui bisogna fare attenzione. Prima dite che voglio continuare gli studi in Italia. Rendete noti il numero degli esami che avete già svolto. Dite quelli che dovete svolgere adesso in Italia. Ad esempio ho fatto dieci esami e mi manca, che ne so, diritto e storia che li devo fare in Italia. E dovete anche chiedere un appuntamento di persona. Magari gli dite sarò in Italia a marzo, può dirmi più o meno un giorno e un'ora in cui posso passare da lei per un appuntamento. Fate attenzione, in entrambi i casi parliamo di mail formali. Scriviamo ad un responsabile dell'assistenza clienti che non conosciamo, non è il nostro amico. E qui ad un dipendente dell'università o ad un professore, in questo caso non è il nostro amico, quindi dobbiamo dare del lei ad entrambi. Qualsiasi traccia voi scegliate, dovete dare del lei alla persona a cui state scrivendo. E solitamente questo accade sempre nel livello B2, diversamente dal B1. Io ho scelto la numero 1, sono a 127 parole, gentile signor Rossi, ho inventato un cognome a caso. Prima mi presento, nel primo paragrafo, mi chiamo Marco Nerici e le scrivo per esprimere la mia delusione nei confronti del vostro servizio. Poi scrivo il problema, due settimane fa ho comprato dal vostro sito il libro Il nome della rosa di Umberto Eco. Nel prezzo era inclusa anche la spedizione che doveva effettuarsi entro tre giorni lavorativi. Purtroppo sono passate due settimane e io non ho ancora ricevuto niente. Ho provato a chiedere informazioni al vostro servizio clienti, ma non riuscivano a tracciare la spedizione. Questo libro dovevo regalarlo ad una mia amica per il suo compleanno e purtroppo ho dovuto comprarle qualcos'altro perché non ho fatto in tempo a riceverlo prima del suo compleanno. Qui è il problema che ho. Quindi mi sono presentato, ho presentato poi il problema e adesso scrivo quello che mi aspetto. Adesso vorrei chiedervi di spedirmi quel libro immediatamente oppure di riavere indietro l'importo pagato. Cordiali saluti Marco. Così si conclude una mail formale. Quindi gentile signor X e cordiali saluti il vostro nome. Vi presentate il problema e cosa vi aspettate dalla persona a cui state scrivendo. Questo era l'esame e la parte di produzione scritta. Vi ricordo che all'interno del mio canale potete trovare anche altri video riguardo agli esami di italiano, non solo CERT.it ma anche CLS, PLIDA, CELI, i vari livelli A1, A2, B1, B2 e C1. Ho addirittura anche altri esempi del C2 ma non mi sono soffermato molto sul C2 perché se una persona intende passare il C2 significa che non ha molto bisogno di consigli. Questo era tutto quello che vi volevo dire. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!